Ma l'abbiamo preparata nel campione italiano che penso che sia proprio un bel allenamento come si è vista nella partita di venerdì a Padova e l'abbiamo preparata in Sala Pesi perché come hai detto tu insomma ci sono tre partite consecutive ma noi speriamo qualcosa di più, più che speriamo, vogliamo e per farlo nel punto di vista fisico nel modo migliore bisognava prepararsi i ragazzi l'hanno fatto, stanno tutti bene, adesso andiamo la carichi per questa esperienza alla quale io partecipo in maniera anche diciamo tra virgolette indegna perché non ho fatto niente per poter partecipare a questa manifestazione però insomma capita nello sport comunque insomma è giusto ringraziare chi mi ha preceduto e ringraziare i ragazzi che invece sì che sono guadagnata e la società che insomma ha accettato l'invito della federazione internazionale che non è mai un invito gratis e quindi insomma io sono carico ma non sono anche i ragazzi e vediamo insomma questa manifestazione cosa ci potrà riservare. Aspetta un girone tutto sudamericano. Sì questo qui è la bellezza di queste manifestazioni qua dove ti confronti con altre scuole, sono assolutamente altre scuole, sono scuole anche all'interno della stessa area sudamericana, ci sono pallavolo diverse, noi ne affronteremo due prestigiose, una brasiliana insomma che magari è quella più conosciuta fatta di tanto attacco e battuta ma una che è quella argentina fatta di tanta tanta difesa, di un cambio palla sistematico e quindi confrontarsi con altre con altre scuole è motivo di apprendimento e soprattutto nel momento in cui tu la affronti devi andare poi anche con le tue aree di miglioramento da voler migliorare in modo da far sì che poi dopo ti porti a casa, al di là dei risultati, ti porti a casa del lavoro fatto per il campionato. Cerchendo di fare insomma una considerazione oggettiva dove possiamo arrivare? Noi vogliamo andare a incontrare le due squadre diciamo favorite della manifestazione perché andando in semifinale l'incontro è sicuro una e noi speriamo due però vogliamo andarci a confrontare là anche perché siamo a inizio stagione e insomma hai dopo modo di lavorare sulle cose che le partite ti dicono e quindi noi ci vogliamo andare con tutte le forze per capire quello che valiamo e dove dovremo poi lavorare. Arrivarci imbattuti in Superlega è una motivazione in più? Io sono contento, non era questo diciamo ragionando partita per partita non è che volevamo andare là imbattuti però visto che siamo imbattuti dopo una partita così intensa come quella di Padova sappiamo di esserlo anche dal punto di vista agonistico perché quella di Padova è stata veramente una battaglia e una rimonta come l'hanno fatto i ragazzi insomma adesso in questo pallavolo è un pochettino più facile però insomma da 10 a 5 non è mai facile vincere i break i ragazzi l'hanno fatto e questo deve dargli consapevolezza della loro forza e del fatto non solo tecnica ma anche dal punto di vista morale. Ebb, come state e con che spirito affrontate questa avventura? Stiamo bene, la vittoria sicuramente con Padova ci ha dato grandi speranze insomma abbiamo dimostrato di avere carattere abbiamo voluto la partita questa mattina abbiamo fatto i pesi adesso partiamo ci aspetta questo lungo viaggio ritorno io in Brasile dopo un mese praticamente e è sempre bello tornare là questa nuova esperienza del Mondiale insomma nuova che magari per alcuni sarà nuova è importante perché la squadra deve trovare un suo ritmo di gioco e il modo migliore per farlo è sicuramente giocare in campo Non c'è respiro? Tre partite una dietro l'altra e poi semifinale e finale come si affronta tutto questo? A livello anche mentale? Sì, bisogna saper sfruttare ogni occasione saperlo fare nelle prime due partite dove ci si gioca la qualificazione per poi anche poter pensare nella terza di riposare un po' sono partite intense sicuramente ci sarà bisogno di tutti dovremo stare pronti a giocarci bene le nostre chance Dove volete arrivare? Eh, vogliamo arrivare fino alla fine a giocarci tutte le partite e farlo nel migliore modo possibile Le formazioni che affronterete nella prima fase sono tutte sudamericane? Le avete già studiate? Le conoscete? Quali sono i punti di fare? Non le abbiamo ancora studiate però io sappiamo che insomma la scuola sudamericana sono delle squadre molto complicate che giocano di carattere giocano di difesa con scambi molto lunghi sarà importante rimanere concentrati con la testa e sapere che le nostre chance ce le avremo anche durante il match a giocano di video Grazie.